Ho fatto un percorso importante lì a Bassano, tre anni e mezzo davvero belli, abbiamo vinto, abbiamo anche perso cose importanti come la promozione in B alla finale pre-off, però era un giocatore scadenza, diciamo che la società del Bassano si è mossa un po' in ritardo, è arrivata la chiamata dell'Arezzo, società importante, con un passato importante ed era un'opportunità per il punto della mia carriera che non potevo farmi scappare, infatti anche il Bassano mi ha liberato perché ha capito che per me era un'opportunità e quindi sono venuto qui ad Arezzo con tanta voglia e sperando di ottenere qualcosa di importante con questa maglia. Sì, beh, prima ho detto che comunque perché una società è una piazza del genere, deve ambire alla vittoria, è vero che l'Alessandria ha un margine importante, un margine di vantaggio importante, però io ho visto la squadra, sono tutti giocatori importanti e secondo me si può fare qualcosa di importante. Con il mister ho avuto la fortuna di vincere due campionati, una promozione diretta a Carpi e una con i playoff a Venezia, beh, appena mi ha visto comunque ho detto che sei ancora qua, perché cinque anni sono tanti, però sono contento a prescindere che ci sia il mister perché comunque anche la società ha dimostrato di volermi fortemente e per un giocatore queste sono cose importanti che ti danno quella carica in più.